La storia inizia nel lontano 1980, dove il titolare attuale di Casa della Musica decise di aprire un negozio in Via Vittoria Emanuele, dove siamo rimasti per diversi anni, fino al 2008, dove poi abbiamo deciso di acquistare l'attuale locale di Via Cagliari 202, Casa della Musica. Anche qui è durato fino a questi giorni. Per svolgere questo trasloco avete dovuto incontrare un mutuo. Cosa è successo poi con la banca? È successo che ci siamo visti le porte chiuse in faccia da parte della banca, perché abbiamo avuto delle difficoltà a pagare, ma poco dopo abbiamo provato subito a mediare con la banca per capire se c'è la possibilità di una surroga, piuttosto che di passare il credito, il debito, a un'altra banca. Ma in questi casi a nessuno frega niente di prendere un debito. Non ci hanno dato la possibilità di rimodulare un tasso che era altissimo, che comunque nel 2008 era abbastanza congruo. E quindi, in sintesi, non ci hanno neanche dato la possibilità di dimezzare una rata o fare una rata di importo inferiore. Quindi, in sintesi, ci hanno detto no. O la rata che pagate in questo momento, oppure noi nel tempo daremo tutto in mano alla giustizia e a tutto il processo che c'è per fare queste cose qui. Però non vi arrendete. No, no. La musica non si arrenda. Non ci arrendiamo perché comunque... Anzi, grandi novità. Sì, esatto. Ci sono grandi novità perché ormai stiamo puntando più sui servizi perché il prodotto ormai è sdoganato, è un qualcosa che si trova dappertutto, ha un euro in meno, due, dieci euro in meno e quindi i clienti lo prendono lì. Per una questione è un'esigenza, ognuno guarda i suoi conti ed è per questo che ci stiamo impegnando a dirigerci verso la sezione dei servizi che sono quindi quelle piccole e grandi cose che internet non può dare. Noi diamo l'assistenza in loco, andiamo nelle salette, insomma, andiamo a prendere quei problemi dove bisogna proprio metterci le mani e esserci di persona. E presto ci sarà una nuova sede. Presto ci sarà una nuova sede, ci sposteremo in via Cagliari all'altezza dove c'era il vecchio negozio di biciclette. Civico 73. Al Civico 73. Sarà un negozio più piccolino, quindi non sappiamo se ci starà effettivamente tutta questa roba, ma tante cose le svenderemo, tutto quello che non ci starà. E soprattutto ci saranno diverse novità per i musicisti perché una volta che ci sistemeremo in quel negozio daremo una, chiamiamola così, possibilità ad alcuni musicisti per, insomma, un qualcosa che è meglio stare allerta, lo scriveremo nei social, quindi per i musicisti, diciamo, potrebbe essere una buona opportunità di sviluppo. Grazie.